Metà napoletana, metà salese per un prodotto vincente. Casa Surace, la società di comunicazione e non solo del Vallo di Diano e Partanopea, è stata premiata nei giorni scorsi a Rimini, al Web Marketing 2015. Casa Surace produce, realizza e interpreta video su internet da successo virale con Andrea Di Maria come vero mattatore. Nella società e anche nel cast ci sono anche altri due valdianesi, Daniele Bugliese e Luca Andresano, entrambi di Sala Consilina. La squadra è completata dai napoletani Simone Petrella e Alessio Strazzullo. Tra i successi più importanti, l'ultima cena ai tempi dei social è la partnership con Terroni Fuori Sede. E proprio per questo enorme successo sul web, con milioni di contatti, a Rimini i protagonisti di Casa Surace sono stati premiati perché si sono particolarmente distinti nel mondo del web marketing durante l'ultimo anno. Il premio YouTube Revolution va quindi a Casa Surace per aver saputo sfruttare le potenzialità della piattaforma YouTube esaltandone le potenzialità e creando contenuti ad hoc per il grande pubblico. Riterare il premio dopo Bonucci e Salemme fa un certo effetto a sottolineato e emozionato Pugliese. Tanti i progetti in essere per Casa Surace, ma anche per i singoli, con Di Maria impegnato nella fiction con Castellitto e lo stesso Pugliese che sta girando in questi giorni un cortometraggio come attore protagonista.